Il settantesimo della lacrimazione è un significato particolare. Noi siamo stati, possiamo dire, consolati, bagnati, protetti dalla Madonna delle lacrime. La Madonna ha pianto e questo ci dice una verità che ci deve sfuggire, soprattutto nel corso della vita, quando attraversiamo momenti difficili, quando pensiamo di non farcela, quando le cose si fanno difficili. Pensare che c'è una madre che ci sta accanto, che ci sostiene, che non si allontana dalla nostra croce è di grande sollievo.